Io cosa ho fatto? La chiami, le mandi whatsapp? No, ho calcolato le calorie, quindi mi sono tolto un po' di olive e ho aggiunto, non ridere, ho aggiunto i lupini. Che schifo per aiutini. Che schifo per te, cioè io ho fatto finta che era buona sta cosa, ma i lupini. Questo è uno spazio di condivisione, come una tavola apparecchiata per voi. Un vodcast di cucina che non parla di cucina. In ogni puntata incontrerò un ospite che ha accettato il mio invito per una colazione, non tradizionale, ma davvero troppo buona. Io sono Luisa Orizio e questo è Focaccia Cappuccino. Imprenditrice, appassionata di libri, opinionista, supermamma, oggi ho un super onore di avere Sadia Borgonelli. Che super gioia, è tutto super qui. Sì, sono contentissima. Grazie, grazie di avermi invitata. Buongiorno. Buongiorno. Allora, come va? Va bene, anche perché vedo che abbiamo tante cose di cui parlare e da assaggiare. Sì, mi attira moltissimo, sono incuriosita, sono incuriosita da te, sono incuriosita dal vostro programma, sono incuriosita da quello che vedo davanti e non lo so, devo avere paura? Un po'. No, allora, abbiamo deciso di invitarti, tanto perché io ti seguo, lo sai ormai. Sì, e anche io ti seguo, anche io ti seguo, sei una delle pagine, esatto, sono delle pagine per me più facili da un punto di vista per poterti seguire a livello culinario, provare a fare qualche cosa, qualche cosa ci sono riuscita a farla. Assegniamo questa cosa che Sonia mi segue? No, a parte che ti seguo, ma effettivamente fai cose che si possono rifare. Infatti mi fa ridere perché quando io ti ho scritto, che le ho scritto un messaggio, sai io faccio il podcast, vorrei invitarti, mi ha risposto, io ci ho messo tipo un quarto d'ora per ririsponderle, perché stavo ventilando in un sacchetto, perché mi aveva risposto, io ero super contenta. Bene. Comunque ti ho invitato per farti assaggiare la mia colazione preferita. Ecco, perfetto. Che da brava genovese è focaccia cappuccino. Ok. Capisco che possa non piacere a tutti, però hai messaggiato focaccia cappuccino insieme? Allora, focaccia cappuccino no, però quando ero più giovane, diciamo anche piccola, più piccola, mangiavo al McDonald's, intingevo le patatine nel milkshake. Ora non so se, perché fai così e focaccia e cappuccino così, patatine e milkshake è simile? È solo che non è patatine, sono magari, non sono la focaccia di Genova, però l'effetto secondo me è simile. Qua è un po' la focaccia genovese, però, cioè, milanese, anzi, diciamolo, questa è milanese, però è buona. Io l'assaggio. Vai, a te l'assaggio, puoi dire che non ti piace. Quindi io devo prendere e intingerla? Spucciata. Ma questo è vero cappuccino? Vero cappuccino, con il caffè decaffeinato però te l'avevo messo. Perfetto. Probabilmente è freddo a questo punto, però vabbè. Immagino di sì, quindi la devo... Puccia, puccia seria proprio. Vedi, da questo si capisce che la focaccia è milanese. Perché a Genova la tagliano più stretta? Perché sanno che sennò non si infila bene nella tazza. Ah, ok. E qua si capisce che è un po' milanese perché è tagliata più larga. Qualche genovese qua mi darà ragione. Stiamo tutti aspettando il tuo commento. Cioè, che devo dire? Non lo so, dipende. Se ti piace puoi dirlo, se non ti piace... No, mi piace, ma scusami, no, non sono arrivata al caffè, ho per tanta schiuma. È brutto mangiare... No, è uguale. Qua non ci facciamo problemi di niente. È buona però. Può fare quello che... Eh, vedi che è buona. Va bene. L'avete anche dei tovaglioli? Sì, no. No? Però li ritroviamo in qualche modo. Ok, è buonissima. Oh, meno male. È buonissima, è forse la prima volta che... Perché solitamente non c'è mai nessuno di ospite di Genova proprio, e quindi è un po' difficile che qualcuno mi dica è buonissima con questo entusiasmo. Allora, la focaccia è buona. E sei di Roma, tu, vero? Sì. Eh, infatti, è per quello che dici che è buona. Diciamo, come dici tu, pucciarlo, intingerlo, se superi la schiuma, la parte, ok, e vai al cappuccino, è molto buona. Ma ripeto, a me piace il mix dolce-salato, quindi probabilmente non è uno shock da un punto di vista di gusto, capito? Bene, meno male, siamo contenti, quindi possiamo invitarti a Genova. Ma posso berlo, cappuccino? Puoi fare quello che vuoi. Va bene, allora, diciamo che forse potrebbe essere la tua nuova colazione. Sì, se non dovresti stare a dieta, sì. Ah, ecco, quindi invece la tua colazione com'è? Allora, la mia colazione, in questo periodo, visto che stiamo in un periodo estivo, è leggera, quindi mi prendo le mie due gallette, in teoria dovrei metterci il cioccolato. La galletta di riso? Certo, certo. Perché fai così? No, no, buono. Due gallette di riso. Con il velo di marmellata sopra, quello che ti dicono. Neanche cioccolato fondente, che però dovrei farlo, mettermi, farlo, no, le compro già fatte. Le vendo già fatte, esatto. Le compro già fatte e effettivamente prendo il cappuccino, meno schiuma, però il cappuccino con il latte scremato. Ok, e invece la colazione che vorresti fare? Ehi, la colazione che vorrei fare, ecco questa con la mortadella, pizza, mortadella, salame, prosciutto, so tutto ciò che è deleterio dal punto di vista. Tutto a colazione? A colazione sì sì, io mangerei tantissimo a colazione e farei praticamente il mio pranzo a colazione. Che meraviglia. Anche perché non mi sveglio prestissimo, anche quando mi sveglio presto poi mi rimetto a letto. I programmi, magari vai a dormire tardi. Vado a dormire tardi, però quando mi capita di svegliarmi magari presto perché accompagnare mia figlia a scuola o per fare la colazione con lei, io le faccio compagnia. Non sono abituata a livello proprio fisico a mangiare presto, per cui se mi sveglio anche presto non faccio colazione presto, la faccio verso le dieci e mezza. E ti alzi senza niente? Sì 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 sì. Quindi la voglia di svegliere? Beh perché poi a mia volta ho fatto cena tardi, quindi comunque se io faccio la cena verso le dieci e mezza, che non si dovrebbe fare, però faccio la cena a quell'ora lì, quando sono le sette di mattina io non ho fame. Ma io ho fame anche le... È perché sei giovane, c'hai il metabolismo a palla. Non sono giovane, sfatiamo questa cosa che sono giovane perché... Sei giovane, quindi sono giovane anch'io. Perché abbiamo tutti due e ventidue anni. Ventidue anni moltiplicati, tre. No, tre no, due sì. Comunque, dicevo, quando tu lavori, c'è differenza dai periodi in cui lavori ai periodi in cui non lavori e quindi cambia la tua mattinata generica? Allora, di base no, te lo dico. Ah, cioè tutto uguale sempre? Beh sì, perché quando io non lavoro presto, cioè comunque sia quando lavoro come produttrice e quindi mi trovo ad andare nei vari studi televisivi eccetera. Questa cosa non succede mai prima delle dieci e mezza, undici, undici e mezza. Così come quando lavoro in prima persona, quindi quando faccio l'opinionista o quando anche faccio i libri di Sonia. Ovvio che registro i libri di Sonia, è un programma mio. Non mi metto la convocazione alle sette di mattina, sarei una pazza e quindi me la metto pomeriggio. Quindi il mio lavoro comunque sia prima delle undici, undici e mezza fisicamente non inizia e per cui ho sempre del tempo per fare la colazione. La giornata tua che si incastra, cioè io come fai a far tutto? Nel senso, tu hai... E poi vedi, esce l'herpes, succedono cose, lo fai, provi. Beh, i libri di Sonia, cioè tutte la gestisci da sola nel senso... No, io ho una struttura, ho un posto come tipo il vostro qui, ho degli studi dove registro e quindi... Perché i libri sono la tua passione. Sì, i libri sono la mia passione da sempre, da sempre. Devo dire che da quando ero piccolissima ho iniziato a leggere, ero piccola, non avevo nemmeno quattro anni, perché ho chiesto a mia madre di insegnarmi, quindi ero molto curiosa da tutto ciò, le insegne, tutto quello che leggevo, no? E poi sono sempre stata una che non si è mai fidata tantissimo, per cui lei mi leggeva le storie, ma io non mi fidavo che effettivamente mi dicesse quello che c'era scritto. Perché poi sai come succede la sera, magari il bambino ti chiede la favola, tu sei stanca, quindi salti le pagine, no? Si sposano subito. E io me l'era accorta. E quindi ho fatto, ho chiesto a mia mamma, o quantomeno lei questo mi dice, ha capito che avevo questa voglia, questa necessità, ho imparato presto. E da lì, poi sai, erano altri periodi, non c'era il telefonino, la televisione si vedeva molto meno, poi c'erano i genitori che erano molto più, come posso dirti, no? A le otto si andava a dormire, quindi un modo per vivere di fantasia, di curiosità, era leggere. Quindi per me... Solo che tu nella tua giornata fai settecento cose. Sì, io leggo la sera, leggo la sera. Quando non lavori. Guarda, la cosa bella è che mi riesco a gestire il tempo, questo è la ricchezza di un lavoro come il mio, perché ho tre figli e faccio la produttrice da tanti anni, anche quando erano più piccoli, quindi io in qualche modo mi sono sempre riuscita a gestire il tempo per poter lavorare, sì, ma poi anche seguirli, quindi comunque ho un'azienda, ormai ho tante persone che lavorano da tanti anni, che mandano avanti i casting, la produzione e tutto il resto. Ho la possibilità di avere dei collaboratori, perché è normale, ho dei collaboratori in casa, che fanno, ecco, non potrei mettermi tutti i giorni a cucinare. A cucinare. E quindi sì, ma questa è una, diciamo, una costruzione che ho portata avanti negli anni. E non è facilissimo, perché poi capitano cose, perché poi... E decidere che cosa delegare e che cosa no. Sì, sì, però ormai siamo un'azienda in tutto, tra famiglia e lavoro, siamo un'azienda collaudata. Tanto parlavo prima, prima che arrivassi tu, parlavamo di questa storia dei libri, che io ho un problema enorme con i libri, nel senso che... Questo voglio chiederlo se... Perché non si cucinano. No, 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 non in quel senso, nel senso che io non sono una... Benché nella vita voglia sempre finire quello che inizio. Ok. Io se un libro non mi piace, lo mollo lì. Ah, vabbè, ma quello è sacrosante, secondo me. Cioè, è una roba che... Però poi mi sento in colpa. Eh, no. Io ho qua un libro da tipo... Però succede, lo capisco. Che non dirò mai qual è. Però ho qua un libro da tipo vent'anni, che non ho finito e non mi piace. Vent'anni, quindi eri piccola? Sì, no, vent'anni forse no, meno. Meno perché c'era già mia figlia. L'avevo iniziato perché avevo letto altri di questo scrittore e mi erano piaciuti, tantissimo. Quindi ho detto, lo inizio, poi a me non piace. Ma dimmi il genere? No. È italiano? No. No, immaginavo. A me non piace, a me non piace. Dicevo, non mi piace. Io le leggo a letto, no? E dicevo, Simo, a mio marito, che lui l'aveva già letto, ma a me non piace. No, no, ma vedrai che poi è svolta. Ah, vabbè, se è svolta. E dicevo, Simo, ma quando svolta? Quanti anni fa? Dicevo, a che punto sei arrivata? Quanti anni fa? Ah, no, no, lì ho già svoltato. E allora ho mollato lì. Ah, quindi l'ha svolta. Ma non è che magari... Guarda, si ha già svoltato, allora lo mollo lì. Ma sai cosa succede con i libri? Questo è vero, succede con i libri. Ma ce l'ho lì, eh. Che dipende dal periodo in cui lo leggi. Allora, lo sai che io ho traslocato tre anni fa e sono dieci anni che me lo sposto su ogni comodino. Mi devi dire, Joel Dicker? No. Non ci arriverai mai? Vabbè, non ci arriverò mai perché... Stephen King? No. Simile? Jeff Deaver? No. Stiamo sul genere? No. E dillo, tanto non credo che ci seguano fino a... Le verità del ghiaccio. E di chi è? Dan Brown. Ah, Dan Brown, vabbè, non ci segue. Chiediamo scusa a Dan Brown se non ci segue. Ma... No, no, se ci guarda, guarda, lo leggo, giuro. Cioè, se lo guardi, giuro, lo finisco. Vabbè, però evidentemente non era la storia, magari non ti interessava la storia. Io ho letto, appena è uscito il codice da Vinci, appena è uscito Inferno. Poi mi sparano quello, vai, leggo anche quello. No. Una barba micidiale. Però mi sento in colpa. Cioè, io ho traslocato e ce l'ho sempre sul comodino. Perché non hai finito. Sì. Però guarda, allora, a me succedeva... Però a te succede? No, a me succedeva all'inizio di non lasciare nessun libro, come se fosse un lavoro. Eh. Non dovevo lasciarli. Poi mi sono detta, come lo che hai detto tu prima, allora il lavoro, i ragazzi, le robe, cioè il tempo. Ma perché io devo stare a dare un'ora di tempo a un libro che non mi piace? Anche perché non è che poi ho qualcuno che mi interroga, quindi ho imparato a mollarli. E devo dire che quando ti sblocchi, cioè quando lo fai la prima volta, che c'è in questo senso, dico, ecco, prendine un altro, mollalo se non ti piace e vedrai che ti liberi e sei anche contenta. Sì. Perché poi apprezzi di più quando trovi un libro che ti piace. Perché capisci anche la differenza. Io nella scelta del libro sono un po' problematica. Sono un po' come nei film, sto tipo cinque ore a guardare che cosa guardo, guardo a dormire. Che cosa ti colpisce? Non si dovrebbe dire, ma se muore qualcuno. Ma no, ho capito, ma non lo puoi sapere. No, cosa ti colpisce quando vai in libreria? Ah, e beh, la copertina. Un grande classico. Però guarda che vuol dire tanto. Tanto vado nella sezione dedicata. Che poi tu lo sai che la copertina... Tipo gente che muore, quelle robe lì, vado lì, sì. Ah, così, ok, gialli, thriller, roba così. Però ho scoperto, facendo tante edizioni dei libri di Sonia, che la copertina è qualcosa che non sceglie quasi mai l'autore. No, è vero. Scegliono sempre le case editrici, eccetera. Quindi anche su quello, no, ci fregano. Eh, sì, un po' sì. Così come i titoli dei giornali, no? Tu fai un'intervista, è carina, dici una cosa e poi esce su un titolo che... Sì, che non c'entra un tubo. E chiama e dici, no, ma veramente no, è il direttore del giornale. Allora fammi fare intervista al direttore del giornale, perché è inutile che, ecco, è così. Il titolo non è l'articolo. Il tuo genere, il mio, quello dove muore qualcuno. No, il mio genere era, ho iniziato così, ho iniziato così. Poi, e adesso il mio genere è molto, ovviamente facendo i libri di Sonia e non potendo chiamare Dan Brown, quindi leggo molti italiani, tantissimi italiani, perché mi incuriosisce la letteratura italiana adesso, perché poi li conosci, perché poi vedi come anche loro cambiano, come riescono ad evolvere, quindi in questo periodo sto facendo tanta lettura di italiani che poi invito, per cui questo. Poi ovvio che vai al mare, leggi Joel Dicker, leggi, insomma, i classici, i thriller, così come ce ne stanno tanti, poi adesso è pieno di questo genere, è omicidio sul treno, la ragazza del treno e tutte queste cose qui. Però quando leggi dei libri, non so, Candidati allo strega, che hanno una struttura, hanno anche una, non tutti, però molti hanno una bella scrittura, puoi tornare indietro e accontentarti del thriller che comunque è fatto, magari ne fanno in serie. Sì, fatta apposta per il pubblico. Sì, vai, sono belle sceneggiature, poi, ma alla fine… E sei riuscita a passare la tua passione anche ai figli? Sì, ad una, alla più piccola, che però ha iniziato… Che ha l'età della mia? 16. Perché ne ha quattro, ah no, allora è un po' più grande. 16, però aveva iniziato… E lei legge? Poco. Ma cosa legge? L'ucina. Il cellulare legge. Ecco, vedi, il problema è quello che… Legge le note dell'iPhone. Esatto, il problema è quello che lei, la mia aveva iniziato da piccola, perché era un momento che avevamo noi insieme, ci mettevamo a letto, io con la mia lucina, lei con la sua… Ci abbiamo provato, ma… E anche lei adesso… Sì, inizia, vabbè, lei adesso legge in lingua perché… Perché, insomma, è molto incuriosita dal mondo anglosassone, scozzese e anche americano, perché è un'appassionata di film, di cinematografia, eccetera. Eh, quello sì, lei ha anche serie, film e musica, tanta musica. E ogni tanto riesco a dirgli ok, l'hai visto, adesso prova a leggerlo, adesso facciamo il contrario, leggi prima il libro e poi dopo ti guardi il film. Allora un pochino ci riesco. Sì, noi abbiamo… Siamo partiti male, mi sa, perché noi fissati un po' in casa con Harry Potter. Beh, anche lei è stata… Ho detto, quando era piccola la lancio in Harry Potter, solo che noi forse siamo un po' troppo fissati. Ancora? E… Ah sì? Assolutamente. E siamo un po' tanto, forse too much e lei era così. Cioè, piena. Sì, forse… Ma siete fissati voi? Sì. Ah, ok. Sì, è la bambina che segue noi a vedere le robe di Harry Potter. E quindi secondo me l'abbiamo talmente uccisa di informazioni, di questa cosa. No, ma perché guarda, con questo entusiasmo che lei proprio… Ha iniziato a leggere mezzo del primo e basta. Lei anche, c'era tutti, ha visto i film, credo pure lei però ne abbia letto uno. Perché poi sai, quando vedi… Lei è mezzo, mezzo del primo e basta. Poi l'ha mollato lì, tipo da un brown a me. C'è uguale, praticamente è una roba di famiglia. No, ma infatti, devo dire, bisogna anche stare attenti con il modo in cui tu le poni le cose, perché poi rischia che sembri quasi un'imposizione, no? Eh, no, è quello. Quindi in automatico, siccome piace a mamma e papà, via. A 14 anni, esatto, a 14 anni, se gli dici che ti piace una cosa, lei fa l'opposto. Però adesso ci sono tanti, io vedo anche su Instagram, ci sono tante pagine di ragazzi che fanno… Sai che ho notato anch'io sta cosa, parlando di libri. Belli anche, alcune fatte anche molto bene. Tutto il fantasy, un po', sì, l'amore, fantasy, tutte queste cose qui. Quindi, magari tra un qualche anno… No, è armoni, però magari… Messo un po' meglio, esatto, un pochino meglio. E senti, allora, passiamo al momento pranzo. Ok. Allora, pranzo… Quindi adesso mi portate il pranzo? No, adesso non ti portiamo. No, possiamo fermare la fogata. Cina. Tu avrai la differenza… Il pranzo nella vita solitamente cambia tantissimo da quando vai a scuola, quando andavi a scuola, arrivi a casa, te lo fa la mamma o la nonna, dipendo, la babysitter o chi per esso. Quando lavori cambia e c'è la pausa pranzo, ma tu col tuo lavoro… Non so quanto avrai la pausa pranzo… C'hai la pausa pranzo? Ma certo, certo. E stai seduta? O sei quella che si mangia il tramezzino in piedi, tipo me, mezz'ora fa? No, no, ma dipende, dipende, dipende appunto da che cosa fai. Quando faccio i libri magari neanche mangio. Quando vado alle varie produzioni abbiamo degli studi televisivi dove appunto c'è la… C'è la mensa col vassoio, tipo America? Certo, no, tipo America, c'è ovunque, ti do questa notizia, c'è ovunque, c'è Roma, Milano, anche Milano. Se esci qui e vai a Cologno c'è una mensa. Invitatemi a mangiare alla mensa. Eh, invitiamola alla mensa di Cologno, si mangia bene? No. Sì, credo di… Ma è normale, cioè sì. Poi quando appunto fai delle cose fuori, magari sì, ecco per esempio quando facevo l'isola, c'era, ti arriva il cestino perché vai all'ora di cena e ti scelto, c'è il riso, ma cose fondamentali. Ti dico la verità, crescendo l'alimentazione ci stai attenta ovviamente, ma il piacere del mangiare, eccetera, lo vivi quando sei fuori, quando magari vai a cena fuori con gli amici, eccetera. Quando lavori… Sì, ecco, è più mi nutro perché sennò sbatto per terra. Sì, sì, esatto, esatto, quindi non… Che era un po' quello che succedeva a casa, perché quando ero piccolina tornavo a casa, mia madre non ha mai amato cucinare, però doveva cucinare. È un po' l'accruccio di tutti. Io avevo sta fettina, che per me la fettina con le carote, le zucchine… Sai quelle cose quando in quei periodi appunto le mamme dovevi mangiare bene? La fettina, sì. Dovevi mangiare bene. E quindi c'era la fettina con l'olietto sopra, come lo ricordo, una nausea… Credo… No, una volta… Non so se si può… Sì, si può dire, si può dire. Ho dato anche il stomaco, ero piccola perché lei si era fissata che dovevo mangiarmi le carote. Ancora me lo ricordo, ci ha avuto sei anni le carote, la fettina e non so che altro c'era. E siccome non c'avevo fame, non mi andava, e me l'aveva lasciata lì. Quindi la fettina era diventata fredda. Di marmola, sulla di scarpe. Le carote fredde, quindi alla fine… E da quel momento mi ricordo che ancora adesso con la fettina ho problemi. Mi ricorda quella sensazione di soletta, capito? Terribile. Io ce l'ho col petto di pollo al vapore. Cioè sta cosa… Sì, no, il petto di pollo al vapore… Sì, no, vanno. Cioè, è qualcosa di… È una punizione. Sì, no, in viaggio di nozze è stata malissimo e mi ricordo ancora questo pover uomo che… Che è sempre il marito? No, 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 mio marito ha anche pover uomo, però pover uomo era quello che veniva a portarci da mangiare in casa. Io non potevo uscire dalla camera, stavo malissimo, ho preso tipo l'epatite. Eh, lo immagino, lo immagino. Quindi mio marito… I segnali, no? Esatto. Quei segnali che il cosmo ci dà. Tra l'altro anche io ero ancora in garanzia, quindi poteva anche darmi indietro. Invece no, invece faceva anche quello che stava in camera, albergolo stupendo, lui non andava neanche al mare per stare con me e si faceva portare da mangiare in camera. E arrivava questo povero Cristo di un cameriere con la cloche d'argento, sei, viaggio di nozze. Certo, c'era un pezzo di pollo. E le zucchine. E io mi ricordo che tirava su sto coperchio e mi veniva sta zaffata di pezzo di pollo al vapore che… Cioè, col petto di pollo è qualcosa di… Al vapore, fidati è una roba… Una settimana così, ce lo devo capirlo subito in effetti forse. No, vabbè, c'erano dei piccoli segnali. No, poi voglio dire, la vita no? Eh, sì. Salutiamo, come chiamo Simone? Ciao Simone, ti voglio bene. Allora, parliamo un po' del nostro primo giochino che ti dobbiamo fare. Sì. Allora, ti abbiamo mezza preparata questo giochino. Sì. Allora, no, è un giochino molto facile, è il giochino di Google. Ok. Però non è cercare il tuo nome e cognome su Google perché sarebbe troppo facile, verrebbe fuori Wikipedia, dove peraltro… Sono alto un metro e 79. Sei alto un metro e 79. A me non potrebbe mai succedere, neanche se c'è stata la mia pagina Wikipedia che… Però, voglio dire, siccome c'è molta gente che… Non sarebbe mai possibile. Tu gli dici una cosa e dici no? No, perché su Wikipedia non c'è scritto. Sì. E allora dovete scegliere, se ci credete, ci credete per tutto, se non ci credete, non ci credete per niente. Quindi, a occhio, sono alto un metro e 79. Giusto, sono assolutamente qua. E credo di essere anche un po' più giovane, però vabbè. Ah, sì? Sì, sì, sì. E non me lo so scritta da sola, perché sei Wikipedia. No, no, non si può, non si può, perché Wikipedia te la toglie la pagina. Ah, ok, io infatti no. L'ho letto, no, l'ho sentito da qualche altro podcast. Mi hanno visto qualche cosa che io non so e quindi mi hanno visto più alta, evidentemente. Cioè, sai quando uno dice sei ricca dentro, non si dice, sono alta dentro. Sei alta dentro. Sono alta dentro. E quindi noi guardiamo, invece che Wikipedia, guardiamo le domande che fanno gli utenti. Ok. Perché più domande fanno, più a Google, e più le fa vedere. E ce n'è una che mi ha colpito, e ora ti spiego perché, che è Sonia Brionelli prima e dopo. Ok, di cosa? No, però te lo spiega, almeno, da quello che ho capito io, perché poi ho guardato la risposta, prima e dopo, dai, è rinserita il Neo. Ah, certo, sì. E questa cosa, io ci tenevo particolarmente... Adesso si vedrà, cioè io noti questo herpes in armi, quindi se anche avessi avuto il Neo non si sarebbe... Un po' sì. No, un po' sì, cioè prima l'herpes e poi li sto io. Ok, un po' sì. Però io ci tenevo particolarmente, perché mia mamma aveva il Neo esattamente dove c'è lui di tu, uguale, identico, ma preciso, cioè lo stesso punto, la stessa dimensione, è una caratteristica che effettivamente se ce l'hai, ce l'hai così. E anche lei se l'è tolto, ma non a vent'anni, cioè se l'è tolto che io ero già grande, ma grande tanto, cioè è una cosa che mi ha stupito perché io non penso... A lei piaceva, cioè non le ha mai dato fastidio, sinceramente non so ancora adesso perché se l'è tolto. E mi faceva, cioè mi veniva da chiederti come mai hai aspettato così tanto per toglierlo. Allora, guarda, innanzitutto perché cresce, quindi per me era cresciuto tanto. Poi facendo televisione inizi a vederlo, a vederlo, a vederlo, a vederlo, a vederlo e poi li attribuivo, cioè per me io storcevo la bocca per colpa del Neo, invece no. Invece purtroppo, quindi ho detto, mi tolgo sto Neo e non storco più la bocca, invece storco la bocca uguale. Allora, la cosa che a me aveva stupito è che mia mamma, io ero abituata, perché veramente se l'hai tolto tardissimo, io ero già grande, io ero abituata a vederla sempre con questo Neo. E quando se l'hai tolto, io pensavo che l'avrei vista diversa, e invece, no, ma dal giorno dopo, cioè io non mi ricordavo più da che parte ce l'aveva. E io la stessa cosa, penso, è stata una cosa stranissima. Infatti anch'io non ho mai avuto paura di togliermi il Neo, cioè di dire, oddio, adesso cambierò, no. Poi ho avuto negli ultimi tempi mia figlia, la piccola, che diceva, no, ma tu mamma sei col Neo, sei col Neo, sei col Neo, non toglierò, quindi a livello affettivo dico, vabbè, poi mi sono detta, ma no, non c'ha senso. L'ho tolto, e poi sai, mi dicevano, rimane il segno, rimane la cicatrice, cioè, io la vedo da vicino, non si vede. No, mi sono voluta far lasciare, cioè, lasciare, e quando vado dal dermatologo mi dice, guarda, se vuoi anche questo puntino marrone che è rimasto, lo togliamo. E ho detto, no, perché mi piace mantenere questa macchiettina, esatto, ma non, insomma, tutta la pesantezza del tridimensionale di quel Neo. E per cui, sì, non è successo niente, infatti me l'hanno chiesto, dice, ma cosa ti vedi? Non so se devo andare dallo psicologo, perché per me non ce l'ho mai avuto. No, ma io ti dico, proprio dal giorno dopo, se tu mi avessi chiesto, ma ce l'aveva a destra e a sinistra? Adesso non la vedrei mai più con il Neo, ora sono passati tanti anni, però... Esatto, ma sai, tante cose, tante cose noi abbiamo paura di fare, perché poi dopo le fai e dici, beh, ma era così semplice, no? Quindi il Neo è stata una delle cose, diciamo, più, 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 più facili da fare, quindi come cambiamenti, quindi devo dirti che non... no. Quindi prima e dopo va bene così. Ma mi piace questa cosa. Sì, ok, infatti quando l'ho visto, ho visto la cosa lì, il collegamento con mia mamma, ho detto, questa io la voglio chiedere. Sì, ma anche perché poi erano più, erano, non so se succede anche a te su altre cose, erano più incuriosite le persone, quindi c'è stato tutto un dialogo, una diatriba tra i fautori del Neo e quelli contro, eccetera, ma tutto una roba loro. Fino a che mi ha stupito, perché a un certo punto uno ha detto, allora se ti piaceva prima col Neo, esci dalla nostra chat. Ma questo, aspetta un attimo, ma questo è sul profilo Instagram? Sì, litigavano tra di loro. Sì, perché tra l'altro litigano come dei pazzi lì sotto. Sì, no, è meraviglioso. Io mi diverto da morire. Sì, perché io non li tolgo. Sai, molti levano i commenti negativi, no? No, no, fai bene. Io li lascio tutti, perché così si autoalimentano, si fa tipo il Tamagotchi, no? Che tu gli dai da mangiare ogni tanto. Si mandano a quel paese vicino. Si uccidono tra di loro, a un certo punto si, come si dice, si indeboliscono tra di loro, perché... No, no, ma fai bene, non li devi togliere. Mi diverto come una pazza. Ma io penso sia una cosa psicologica, anche per una sorta di analisi che loro fanno. Cioè, quando vai dallo psicologo che parli, 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 loro lo fanno e ti dicono tante cose. Ma te danno fastidio o no? Guarda, io ti dico, a me personalmente no. Negli anni ho insegnato anche ai ragazzi, perché poi i ragazzi, giustamente, no? E i primi tempi magari succedeva che il maschio Davide mi diceva, no, ma si sentiva di dovermi difendere, fare. Dicevo, guarda, lascia stare, perché... Anche per loro, ma anche un modo per rendersi conto della realtà, per rendersi conto dell'importanza di fare delle cose per non invidiare gli altri, l'importanza di costruirsi una propria personalità, una propria vita, a prescindere da quello che c'è intorno. Insomma, tante cose. Quindi un pochino dei passi indietro io l'ho fatti per loro. Quello che spesso mi chiedono, no, ma gli haters, eccetera. In realtà io sono dell'idea che i social abbiano fintamente avvicinato tutti. Nel senso che io a... Andrà tutto bene, saremo tutti più buoni. Sì, certo. No, però, no, avvicinato nel senso che molte persone, noi non le avremo mai incontrate, no? Fai delle scelte di vita che ti portano a seguire un tuo percorso. Invece adesso sembra che ci dicono che siamo tutti uguali. E non è vero. Perché non siamo tutti uguali, perché non abbiamo un passato uguale, non abbiamo le stesse risorse, ma non abbiamo neanche la stessa volontà a volte, no? E questo ti porta a dire, se lui fa di più, se lui è arrivato, è o raccomandato, o comunque ha fatto un modo che non doveva fare, o è uno stronzo, passatemi il termine, perché se no ce la facevo pure io. E poi non è che ti fai un'analisi e dici, ma è perché io non ce l'ho fatta. Quindi da questo punto di vista, se noi diamo retta a tutti, capisci che diamo retta a persone che un giorno si alzano. Sì, è che tante volte, secondo me... Dicono, io apro la pagina, viva i reality perché so belli, ok? Quindi c'è questa pagina che si chiama viva i reality perché so belli che dice che tu sei una deficiente. E quindi? Eh sì, lo so. Chi è? Non è un giornale, non c'è un direttore, non ci sono delle persone che si assumono una responsabilità. Io mi posso svegliare domani mattina, faccio un profilo falso e ti massacro. Eh no, no, infatti. Comunque c'è anche gente buona. Sì, è ovvio. C'è anche gente buona e noi abbiamo chiesto a questa gente buona, no, abbiamo chiesto a tutti, abbiamo chiesto a tutti di farti una domanda. E sono arrivato un totto di domande e noi ne abbiamo scelta una. Ok. E ora te la facciamo sentire. Va bene. Sei pronta? Certo. Ciao Sonia, ti seguo da sempre e ammiro il tuo essere una donna così versatile. Che sto sentendo? Il tuo essere un personaggio pubblico e di conseguenza esposta al giudizio altrui ha mai influenzato le tue scelte alimentari? Che carina, signora. Ci sta dando della cicciona? No. No, dai. Signora, come vede, no. No, secondo me intende. Oddio, qui c'è fa caldo questo, sono andato le luci? Fa caldo, accendiamo l'erpezza. In che senso? Beh, certo. Certo, no, salutiamo la signora, sì. In tutti i sensi. Perché sono stesse lì la signora. Ciao la signora. No, in tutti i sensi. Cioè, sia magari probabilmente lavorando che ti condizioni in quel senso, ma anche forse l'aspetto fisico. Assolutamente sì. Guarda, devo dire che mi sono complimentata con me stessa qualche anno fa, proprio perché ho iniziato ad apparire in video facendo l'opinionista e prima era per osmosi. Prima erassi dietro le quinte. Non solo, no, ma anche la mia visibilità era figlia del fatto che appunto avevo un marito famoso e tutto il resto, quindi ok. Quando ho iniziato ad andare io in prima linea, effettivamente è capitato che ero già grande e devo dire meno male, perché quando mi chiesero tanti anni fa, il primo anno che stavo con Paolo, di provare a lavorare, a fare, c'era uno spazio su Rete4 che si chiamava Aspettando Beautiful, Rete4 e Canale 5, e c'erano tutte le telepromozioni e mi proposero di fare quello spazio lì. Io avevo 24 anni, avevo capito che era figlio della curiosità per la mia vita privata e quindi non l'ho fatto, ma devo dire che effettivamente ho fatto bene, perché non sono una persona da questo punto di vista lineare, cioè io sono una persona che non riesce a seguire una dieta fino in fondo, non riesce a seguire una cura fino in fondo, si è fatta male alla caviglia e non riesce a concludere un percorso di riabilitazione, quindi avrei faticato tanto, esatto, avrei faticato tanto a mantenere tutta questa attenzione sul viso, sul corpo, eccetera. L'ho provato a fare negli ultimi anni, quindi con l'alimentazione, con l'attenzione, come vedi togli il neo, come vedi stai attenta, fai alcune cose, ho fatto la blefaro perché l'avrei dovuto fare già da un sacco secondo me, ma andando in video noti delle imperfezioni perché il video è terribile, per quanto ci siano belle le luci, innanzitutto ti dà 5 kg che te li regala così e te le mette, ok. Porta a casa. Poi si nota tutto, no? Ecco, allora ci sono arrivata da adulta e quindi riesco a gestire questa cosa con dei sani compromessi esistenziali, cioè provo a mangiare meglio, provo a fare sport, provo a mantenermi meglio, eccetera, se ce la faccio bene, se no c'è anche la vita Patatina col milkshake. Sì, patatina col milkshake, ma comunque c'è l'esistenza, ci sono gli aperitivi, ci sono gli amici e a 50 anni il grosso della mia vita professionale l'ho fatta e posso serenamente fregarmene, ecco, se l'avessi impostato, avessi impostato la mia vita sull'estetica e anche sull'attenzione e anche forse su… Anche perché mangiando sempre fuori o giusto… Ma sai, io vedo tanta gente che dice, no ma io sono magra, no ma io mangio, non è vero, cioè sfatiamola questa cosa perché non è vero. Io mangio, sono sincera. Sì, ho capito, dipende quanto mangi. Allora, io mangio, è difficile che io mi scofani a cena soprattutto e a pranzo perché io mangio in continuazione ovviamente, facendo questo lavoro, dalle 9 del mattino a mezzogiorno, quindi capito che alle mezzogiorno e mezza con i normali mangiano e tipo mio marito si mangerebbe le gambe dei tavoli, io non c'ho manco fame a mezzogiorno e mezza. Ma dalle 9 a mezzogiorno sono tre ore, quindi qualcosa vuoi mangiare? Sì, ma non è che mangio un piatto di pasta, è che faccio il video, finisco il video e poi faccio tre assaggi. Eh, ok. Ok, poi finisco l'altro video e faccio altri tre assaggi e faccio così fino a mezzogiorno. A mezzogiorno e mezza io non è che c'ho fame. Eh, certo. Quindi quanto posso mangiare? Mezzo tramezzino. Eh. E quindi io in teoria mangio tanto, in pratica forse mangiando così continuato il mio metabolismo va avanti talmente a bomba. Può darsi, può darsi, però. E poi la sera mangio poco sostanzialmente. Sì, però ecco, le mangiate, adesso ti dico, in una mia condizione normale, io me ne ho mangiati cinque di questi, no? Ma non perché per me è normale, cioè se vado a pranzo in una condizione normale, io mi dovessi scegliere, ok, poi c'è chi magari ha un metabolismo più veloce, chi ce l'ha più lento, ma in realtà quando tu vedi le ragazze magre, ragazze o donne, specialmente donne, perché poi col passare del tempo il metabolismo ha qua, non mi dici che mangi, cioè mangi certo, vieni al ristorante perché io le vedo, le invito al ristorante perché magari spesso si lavora, si parla, eccetera, c'hai il, sì bevo, io bevo, ok, bicchiere di vino, bevi, ok, io mangio, io mangio, ma Triciana, cioè non hai mangiato, hai ordinato che è diverso, perché le cose sono, capito? Ecco, ma è quello che aiuta anche che io non bevo, eh, cavolo, eh, e quello secondo me sono tante colori e meno, eh, tantissime, 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 cioè posso bere una birra alla settimana, tantissime, piccola, eh, ma ti perdi il bello della vita secondo me? Eh, lo so, ma sono allergica al vino rosso e divento a macchie, se bevo il vino bianco mi viene un mal di testa, beh, quello perché non sei nemmeno abituata? No, no, ma proprio tanto così mi viene un mal di testa e poi comincio a cantare dopo quattro minuti, quindi non rego niente, quello è il bello, è il bello, è il bello per gli altri, esatto, sì, ho fatto delle scene che le evati, vabbè, per me l'aperitivo è proprio un momento, c'è lo spazio aperitivo? C'è il momento o no? L'abbiamo saltato? Il momento aperitivo no, c'è il momento merenda, che però se vuoi lo sostituiamo con il momento aperitivo, facciamolo diventare l'aperitivo, lo possiamo sostituire? Sì, mi dicono di sì, dai, sì, ok, facciamo un protocollo nuovo, dai, cambiamo tutto, via il momento merenda che ci sta sulle balle, perché tanto la merenda, quando sei a dieta una mandorla, un fruttino, un kiwi, c'hai fame, mangiati mezza mela, lo yogurt, diamo un momento aperitivo, fatti, io mangio, che fai merenda, mangio lo yogurt, e che mangiare? No, è vero, aperitivo, momento aperitivo, ok, com'è il tuo aperitivo? Allora, dipende, c'ho due tipologie di aperitivo, nella mia dieta, ho scelto la dietologa, ho cambiato un po' di dietologa, alla fine la mia dietologa, che si chiama Tiziana e che saluto, mi ha messo tre volte a settimana l'aperitivo, cioè un bicchiere di vino rosso e dieci olive. Dieci olive? Sì. Cioè, e se io voglio mangiarmi cinque olive e due patatine? E allora devi andare a contrattare. Io cosa ho fatto? La chiami, le mandi whatsapp? No, ho calcolato le calorie, quindi mi sono tolto un po' di olive e ho aggiunto, non ridere, ho aggiunto i lupini. Che schifo per ai lupini. Che schifo per te, cioè io ho fatto finta che era buona sta cosa, ma i lupini. Ho messo un po' di lupini. Poi i pistacchi, eh sì. No, i pistacchi sì, i lupini no. Pistacchi sì, però i pistacchi ne ho presi talmente tanti che... no. E quindi di base... Poi i pistacchi non va più di moda, abbiamo cacciato i pistacchi ovunque e basta. Esatto, di base era un alibi per bere. Io ho tre volte a settimana questo vino rosso. E basta? A merenda, aperitivo. Beh, aperitivo, certo. Sì, ma un bicchiere. Eh sì, un bicchiere, un bicchiere di vino rosso con delle olive, che poi levi olive e diventa lupini, poi dopo noccioline, eccetera, il tempo ti passa. E ti dà l'idea che non hai fatto niente, cioè che comunque è dieta. È dieta. Ma tu sai che vuol dire? Dici, scusi, sono a dieta, un bicchiere di vino rosso e ti guardano, sono a dieta. E ti dice anche il tipo di vino rosso, fa anche l'assomeliero. No, 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 quello non scelgo io. Ah, ok. Poi ci metto il ghiaccio, cosa che non si fa. No, dai, ho capito, sono... No, vabbè, ma lo so anch'io che non si mette il ghiaccio nel vino rosso. Lo sai sulla carta, ma poi dopo in pratica se lo metti dura molto di più. Eh, e vuoi mettere... Dura di più, è un acquato, fa meno calorie. No, non è che fa meno calorie, dura di più l'aperitivo, quindi lo diluisci, tu ti sembra di bere acqua, in realtà c'hai questa sensazione di vino e l'effetto, un unico effetto collaterale è che poi ti ubriachi senza rendertene conto, perché mentre il vino vero lo senti e ti fermi, lì bevi, parli, dici, fai, e poi c'è tutta un'altra serie di problematiche. Non mangi perché ti mangi lupini. Non mangi perché... No, poi c'è la cena. Non assorbe. No, no, assorbe. Esatto, brava, brava. Il problema è quello che è senza carboidrato, va, arriva subito. Una volta ho bevuto... Vedi, lo sai? Lo so. Perché una volta ho bevuto il vino rosso, pur sapendo di essere allergico, che poi non è che vada al creatore, mi riempio di macchie e mi viene una pancia tipo così, tipo incinta di otto mesi. Però c'erano gli alpini a Genova. E quindi ha dovuto bere. E cosa fai? Non bevi? Cioè al quarto che mi dice bevi, che gli dico sono allergica, cioè dai mi spiaceva, no? Però non è finita bene, cioè tipo c'è una foto mia su qualche giornale genovese, che i miei tra l'altro hanno visto il mattino dopo, di me seduta su una 500, di quelle vecchie, che aveva davanti montata sul cofano una damigiana di vino. Ah che bello, chic, elegante. Elegantissima. Che bello. Con la maglietta degli alpini. Io ero seduta sul tetto della 500 e davo davvero la gente che passava per la città e che faceva così tipo regina Elisabetica. E hai bevuto cosa? Ma sì neanche, probabilmente. Ero tutta piena di macchie rossa. Un figurone. Ma ce l'abbiamo questa foto? No, fortunatamente c'è mio padre, sì, al ritaglio di giornale ancora. Eh beh, ma ti credo. Questo servirà, sai cosa, a tua figlia. Infatti noi gliela faremo vedere questa cosa. Ora lo sai. Come si chiama tua figlia? Sofia. Sofia, adesso vai da nonno e gli dici ma ti ricordi nonno? Ho saputo che c'è una foto di mamma sul cofono di una macchina piena di macchie in faccia e ok. Va bene, ciao amore. Quindi il momento aperitivo, poi vai a cena? Sì. Ma a casa? E che ne so, dipende, dammi l'agenda e te lo dico, non lo so. No, vedo, solitamente io quando vado a prendere l'aperitivo. No, di solito quando vado all'aperitivo, quando faccio l'aperitivo, visto che ormai la dieta non la seguo più, quindi quando faccio l'aperitivo diventa pure cena. Sbacchi di butti? Beh, sbacco, diventa pure cena, quindi in qualche modo. Noi a Genova siamo un po' braccini, siamo un po' t-rex. Lo so. E quindi da noi ti fanno l'aperitivo dove ti danno anche tipo pezzi di pizza, focaccia col formaggio, quelle robe lì. Tipo cena aperitivo, è nata da voi? Sì, sì, apericena ce l'omeno un po', ormai. Ormai non si può sentire un po' come la carbocrema, no? Che cosa? Che questa cosa della carbocrema che non si può sentire. Ma io non l'ho mai sentita. È la cremina della carbonara. Ma quando mai la carbocrema? Sì, appunto, è terribile, c'è della gente che fa i video e dice, ah, adesso vi faccio vedere come si fa la carbocrema. Se può sentire. Io giuro non ho mai sentita questa cosa. Eh, meno male. Perché sto a Roma, carbonara, come ti dice a Roma carbocrema, viene ucciso. Eh, a proposito, se tu mi dovessi fare a cena una roba tua, ci sarà una ricetta che ti piace fare sempre? Sì, il ragù. Certo, mi dici, se hai le robe che fai veloci, veloci. No, no, il ragù non è lento, cioè devi solo lasciarlo acqua. Ho capito, ma mica mi metto via. Sì, il ragù, lo so, credo di essere molto bravo. Il ragù classico di carne? Di carne, sì, ragù, pomodoro, carne. Sì, sì, quello. Grande, quando fai cuocere? Cosa? Quanto lo fai cuocere? Eh, a volte quattro ore, cinque ore, non faccio mezza giornata, però lo metto su alla mattina. Eh, vabbè, tanto cuoce da solo. Poi ogni tanto c'ho qualcuno che mi aiuta a guardarlo, perché non è che sto di una volta mi si è... Attaccata? Sì. Allora, hai portato la foto? Mia? Sì, mi dovevi portare, no, tua, mi dovevi portare una foto. Ho portato il telefono. Hai portato il telefono, brava. Eh. E mi hai portato una foto, ti avevamo chiesto, portaci una foto un po' imbarazzante. E noi vogliamo vedere questa foto un po' imbarazzante. Ah, me l'avete chiesto? Sì. Ok, allora io siccome i compiti li faccio. Brava, vedi? Bene. Ma a chi la devo mostrare? A me. Provano a ridere. Succede. Allora, facciamo vedere. E non l'avevo fatta per il tempo. Allora, questa è una foto costume da pesce nasello adulto. Sì. Adulto, tra l'altro, perché poi c'era anche quella... Per bambini, perché avrebbe avuto più senso, secondo me. Ah no, scusa, perché adulto è il costume. Io avevo pensato al nasello adulto. Pensavo anche il nasello. Ma fammi vedere una foto tua, perché sarai pieno di foto imbarazzanti a questo punto. Avevamo capito la cosa che era il costume per adulto. Io pensavo al nasello adulto. Bene, e adesso vedo io, perché come, insomma, non credo sia più in grado di farlo la vostra conduttrice. Il nasello giovane sarebbe stato per me. Il nasello giovane era semplicemente più piccolo, più piccolo. Allora, mi vuoi pensare a dei vestiti, delle cose, eccetera. Quindi... Quale meglio del nasello? No, io, allora, c'era, sai, quando fai le cover, le cose, allora, la conduttrice vestita, l'opinionista così, lui così, l'inviata così, eccetera. E quindi i colori, eccetera. E ho detto, ma se non sappiamo come si veste questa, come si veste quest'altra, come si veste, eccetera, che possiamo fare? E allora, il mio caro collaboratore Alessandro mi ha detto, ma facciamo qualcosa di particolare. Vespiamoci dal nasello. E allora abbiamo cercato costumi, tipo una cosa che ci faccia venire in mente il mare, l'isola, eccetera. E la prima cosa che è venuta è stata pesce nasello. Ma lui, serio, è venuto e mi ha detto, guarda, io penso di averlo trovato. È una cosa originale, carina. E ha girato questa cosa. E io mi sono immaginata, in quel momento, attanto a Vladimir, a Ele Noir e a Dario Maltese vestita della pesce nasello. Ho detto, secondo me spacchiamo. Con i tacchi o senza? E no, con i tacchi. Ovvio, ovvio. Pesce nasello col tacco, ovviamente. Poi, devo dire la verità, non ce la siamo sentita. No, l'avrei voluta però. Però ci sono stati quei 6-7 minuti che ho detto, secondo me, è una figata. In realtà, con questo nuovo corso, dove deve essere tutto politicamente, tutto serio, tutto così, forse me l'avrebbero bocciata. Però, il giorno, il giorno in cui ho più potere e posso decidere, secondo me, una cover da pesce nasello, la faccio, la faccio. Trovi un autore che scrive di libri. Ma sì, ma perché, perché secondo me, ci stiamo disabituando a ironizzare su di noi, su, cioè, adesso col fatto che noi ci possiamo mettere i filtri, fare bellissimi, scrivere frasi di altri, no, di Frida Kahlo, piuttosto che di Oscar Wilde, eccetera, e fingere che siano le nostre. Cioè, noi ci stiamo costruendo questa immagine di noi, fintamente perfetta, quando poi in realtà la perfezione, ah, non è di questo mondo. Perfetto, in costume, col sedere di fuori a dicembre, e poi la frase poetica, è stata in francese, magari. Certo, però, voglio dire, bellissimo, se sei bella, benissimo, ma se sei una persona normale, o quantomeno, ecco, ironizzare un pochino su quelli che possono essere i difetti, su qualche cosa, ne sento un pochino la necessità. E allora mi faceva ridere questa cosa di sdrammatizzare, perché tanto quando vai lì sembra veramente che stai facendo un servizio fotografico. Noi abbiamo fatto questa cover in, cioè, che è una cosa normale, la fai in dieci minuti. Ci abbiamo messo una vita perché c'erano i fotografi che pensavano veramente di star facendo il calendario Pirelli, cioè, eravamo noi quattro, dopo che ci giri in dodici posizioni, cioè, siamo noi quattro vestiti con dietro due palme, un po' di mare, cioè, ripeto, un po' di, di, la bellezza di quando invecchi è questa, che sdrammatizzi, cioè, dici, ma che se ne fredda. Però il pesce nasello, a me sarebbe piaciuto vederlo, eh. Lo vedrete, non è detto che quest'estate, adesso, tra una settimana, quando torno a Formentera non mi metta il costume da pesce nasello e andrò a finire sicuramente su Diva e Donna vestita da pesce nasello. Meraviglioso. Sì, sì. E cerco, troverò accanto, non so, uno sgombro, qualche qualcuno. Il pesce nasello piccolo. Il pesce nasello con lo sgombro e, sì. L'acciuga. La mia nuova vita. Che vai. Bene, legato all'isola sicuramente. Sì, sì. Siamo arrivati alla nostra domanda scomoda. Ok. La domanda passa al pomodoro. Passa? Perché scomoda la pasta al pomodoro? Perché oltre al vino rosso io non posso mangiare il pomodoro. Ah, ok. Che, tra l'altro, non mangiano neanche i tuoi figli. No, le bucce di pomodoro è un problema. Le bucce dei pomodori. Ma io lo so che... Però la pasta al pomodoro, sì. Se tu le levi tutte le bucce, la passi... Cioè, se la regola passata la mangiano. Sono allergici, non hanno fastidio per queste bucce, perché evidentemente quando mangiavano a scuola dalle suore... Tutti e tre. No, la più grande mangerebbe pure questo. Quindi non c'è problema. Gli altri due, sì. Perché la più grande non mangiava a scuola, per tutta una serie di motivazioni, gli altri due, sì. E quindi, secondo me, ho capito... E sì, la mensa della scuola fa... La mensa della scuola crea degli incubi per tutta la vita, pazzeschi. E loro hanno le bucce del pomodoro. Si, mio figlio non mangia minestrone mai. Vedi? Perché questa cosa dell'incubo, delle suore che gli davano il minestrone... Infatti, infatti, noi ce ne accorgiamo sempre dopo. Infatti, diciamolo alle mamme, se potete, non li fate mangiare alla mensa della scuola. No, ma poi le mangiava anche bene, però sto minestrone non la... Ma sai cos'è? Secondo me è l'obbligo. È l'obbligo, no? Che comunque, sai, quelle vanno per uno. Non è che possono mettere... Allora, tu no, tu mangi, tu glielo scrivi adesso tutte le allergie. Però, a parte le allergie, poi i gusti sono quelli. Io mi ricordo che lui non mi diceva niente, Davide. A Dele, un pochino, questa cosa della buccia di pomodoro... Cioè, ci sono stati incubi proprio ricorrenti, sogni di bucce che inseguivano... Poi diventano serial killer per le bucce di pomodoro. Bucce di pomodoro a casa mia non... Vabbè, comunque, la domanda passa al pomodoro. Quindi, anche per i tuoi figli, fai conto, la domanda passa al pomodoro con le bucce? Con le bucce per loro, quindi... Quindi la domanda è un po' scomoda. La situazione è scomoda, imbarazzante. Quella che proprio... Insieme a quella del nasello, peraltro, se tu fossi... No, guarda, una situazione molto imbarazzante e io l'ho vissuta tanti anni fa. Ero fidanzata da poco con Paolo e lui presentava la serata dei Telegatti. Quindi c'era ancora la serata dei Telegatti. Ed era, in qualche modo, la nostra presentazione. Cioè, nel senso, era la prima cosa che facevamo pubblica, no? Quindi io andai con lui. Cioè, lui andò prima perché doveva fare le prove, eccetera. E io dopo. Mi ricordo, mi ero messa questo vestitino crema, abbastanza sotto al ginocchio, molto elegante, molto chic. Cioè, c'aveva delle scarpe col tacco, alte, sempre ovviamente. E però, non lo so come ho potuto pensare, cioè, che potesse essere possibile una cosa del genere. E avevano, erano dei sandali, e avevano solamente l'anello intorno all'alluce. E basta? E basta. E come stava insieme il resto? No, forse c'avevano anche il cinturino. Ah, ok. C'avevano anche il cinturino. Se no, parlerei col produttore di queste scarpe perché... Non si può dire perché... Non si può dire. È un signore importante. Ok, non lo diciamo. E quindi, scendo dall'hotel, che a tempo era l'hotel de Milan, io scendo, c'era mio fratello, faccio una, due, tre, alla quarta, che io non ho dimestichezza tanto con le scale in generale, ma specialmente, alla quarta mi si fa il piede e casco. Ma ovviamente ci saranno state 27 fotografi. E infatti ti sto per dire quanti fotografi c'erano davanti. Tantissimi. Prima scalinata. Cado e mi sbuccio il ginocchio, cioè, casco di ginocchio, proprio tum. Ovviamente non mi è successo niente, non mi sono fatta niente. E certo, fai la vaga, ti tiri su, sangue. Salgo e entro in macchina. Entro in macchina, nel frattempo, sangue. No, su serio. È certo. Sangue con questo vestito crema. Quindi succede che scendo, vado, mio fratello si siede, io vado dietro a salutare Paolo. E che cacchio, poi della vita, anche i segnali. C'era il palco, il palco, e poi c'erano queste scalette giù per andare. E sì, per andare al sotto, sotto dove loro stavano facendo, dove c'erano i camerini. Uno, due, tre, ricasco. E no. C'era la povera, sì, che non c'è più. Ti sei fatta l'altro ginocchio. No, mi sono fatta la sarta, cioè Eliana, la sarta, Eliana stava lì, mi ha proprio, ha provato a prendere, proprio lo boom, sopra di lei, perché io l'ho vista, stava così, vedeva che arrivavo. Mi sono fatta pure la sarta. La sarta, sì, la sarta, e lì ho attutito, ma lì mi alzo e vedo il dramma, c'avevo tutto questo vestito bianco attaccato alla pelle. No. E ho fatto tutta la, cioè Paolo conduceva, io ero seduta. E tutta la serata così? Tutta la serata c'avevo Panariello accanto, che non sapeva se guardare Paolo e la presentazione tutta la serata, o questo ginocchio. Quindi io sono stavo così imbarazzata, perché poi non ero adesso, era, avevo 24 anni, 25 anni, cioè Panariello accanto che ti guarda e tu hai questa cosa attaccata di crosta, come quando sei piccola che ti mettevano nel penatello. E poi lo devi bagnare per staccarlo. Così, con questa cosa, ho detto, ecco, quello me lo ricordo perché è stata una roba. Sì, adesso probabilmente ci faresti una storia. Adesso fai la storia. Ti metteresti lì, guardate cosa mi è successo, che ridere. E lì ho buttato con le scarpe perché veramente, cioè, io non so come era possibile. Quindi direi che ci siamo. Sì, no, no, più imbarazzate di così, pensavo che il nasello avrebbe... No, ecco, poi abituata a questo, il nasello era piuttosto... Sì, a questo il nasello era niente. Adesso sarei andata la notte del gattico, vestita da nasello, e chi se ne frega, ecco. Grazie Sonia, grazie. È finito? Sì, è finito. Oh, che bello, grazie. No, bello, non che sia finito, bella l'intervista. Siamo state bravissime, mi sono divertita tanto. Ci possiamo mangiare tutta la focaccia adesso perché abbiamo finito. Beh, adesso ci mangiamo la focaccia. Grazie, grazie davvero di essere venuta. Ciao a tutti, grazie a te di avermi invitato e, beh, ci vediamo su Instagram. No, ci vediamo in cucina la prossima perché mi devi fare la sfumata del vino rosso per vedere se sono allegita. Per vedere se muori, ok. Ok, grazie. No, 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 no 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 Grazie a tutti.